Per lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è arrivato il momento di indossare ufficialmente la casacca da rugby in occasione dell'allenamento regionale delle selezioni siciliane Under 16 e 17, organizzato dalla Federazione Italiana Rugby Sicilia. La Nista Rugby ha messo a disposizione la Clubhouse, l'assistenza sanitaria e si è impegnata a organizzare il terzo tempo. Inoltre si sono disputati anche consueti allenamenti delle categorie Under 9 e 11 della società nissena, impegnate nei raggruppamenti federali e regionali. Finalmente il 14 febbraio abbiamo potuto svolgere la prima attività federale ufficiale al Tomaselli. Come già evidenziato, ha detto il direttore sportivo Andrea Lo Celso, per noi sarà un anno di transizione perché avere casa pronta a metà stagione di certo non ha agevolato la nostra attività. Cercheremo da oggi in poi di svolgere ancora più lavoro con tutte le categorie a disposizione. Il dirigente ha continuato ringraziando per la fiducia l'ex presidente della Federazione Italiana Rugby Sicilia, Orazio Arancio e l'ex amministrazione Ruvolo. Senza dimenticare il lavoro svolto dall'attuale sindaco Roberto Gambino, dalla sua giunta e dal geometra Sardo. Infine, ha concluso Lo Celso, un vigoroso grazie al presidente nazionale della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti e a quello regionale Gianni Saraceno.